Salve gente, benvenuti a questo mio dodicesimo video dedicato al Rotto Gran Turismo 6 e questo dodicesimo video non ha un argomento specifico come quelli precedenti ma volevo parlare di un po' di novità riguardo a Gran Turismo 6 le ultime notizie che sono uscite riguardo a Gran Turismo 6 e a una cosa che mi è successa grazie ai video che ho pubblicato finora mi ha contattato un ragazzo di nome Alessandro su Youtube dopo che ha visto i miei video, i miei primi video del Rotto Gran Turismo 6 e mi ha contattato dicendomi che lui, ultimamente, nell'ultima settimana ha potuto provare al Games Week, che è una fiera che si è appena tenuta qui in Italia dedicata al videogioco, ha potuto provare al Games Week la demo di Gran Turismo 6 e mi ha voluto, attraverso la lettura di un suo articolo che ha scritto trasmettere le sue impressioni, le impressioni che ha avuto riguardo a questa demo di Gran Turismo 6 e quindi mi ha trasmesso le sue impressioni e soprattutto ha chiarito molti magari dubbi che avevo io che comunque hanno molti dei futuri giocatori di Gran Turismo 6 su come potrà essere questo nuovo gioco e lui fa parte di una community italiana che è GT Club Italia mi metterò il link in descrizione sia della sua community sia del suo canale Youtube e sia del suo articolo che ha scritto riguardo alla prova del gioco al Games Week e attraverso questa prova di questa demo al Games Week lui ha avuto delle sensazioni ha avuto comunque toccato con mano quello che sarà più o meno Gran Turismo 6 allora innanzitutto voglio specificare che lui è stato finalista della GTA Academy per ben tre anni e quindi non sto parlando di una persona che non capisce nulla di Gran Turismo o che comunque come me per dire può dire parzialmente può dire quello che pensa ma comunque è sempre una cosa abbastanza soggettiva lui si ha dato i suoi pareri che sono soggettivi però è stato finalista a GTA Academy quindi avrà sicuro la sua opinione un valore maggiore rispetto a quella che può essere la mia e lui provando questa demo di Gran Turismo 6 ha avuto delle sensazioni per la maggior parte positive da quello che leggo nel suo articolo soprattutto per quanto riguarda la fisica di guida l'intelligenza artificiale ma anche gli impatti gli incidenti che gli hanno trasmesso delle sensazioni positive per quanto riguarda la fisica di guida sicuramente è la cosa che mette più in risalto ed è sostanzialmente la cosa più importante la fisica di guida è sicuramente una cosa importante lui dice che questa prova di questa demo gli ha trasmesso una sensazione veramente positiva proprio perché si nota rispetto a Gran Turismo 5 un vero e proprio miglioramento per quanto riguarda soprattutto lo spostamento di peso dell'auto in accelerazione, in frenata, in curva il nuovo sistema di sospensioni introdotto in Gran Turismo 6 migliora di molto le sensazioni di guida e di conseguenza rende la guida molto più gradevole lui ha provato la demo con diverse postazioni con diversi tipi di volante e ogni volante gli ha trasmesso sensazioni diverse ma le sensazioni sono state comunque positive poi potete leggere dettagliatamente nell'articolo che vi metterò in descrizione quello che lui ha provato però sensazioni positive con una sorta di distribuzione appunto del peso dell'auto che cambia nelle varie situazioni di gara nelle varie situazioni in pista e che quindi migliorano il coinvolgimento in gara poi anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale lui addirittura scrive che ha fatto fatica alla massima difficoltà a superare comunque le auto che avevano che erano a pari con la sua comunque auto dello stesso livello lui ha fatto più fatica a superare rispetto a come accadeva in Gran Turismo 5 dove superare l'intelligenza artificiale era molto più semplice quindi un'intelligenza artificiale migliorata che era uno dei dubbi che rimanevano se questa intelligenza artificiale fosse stata migliorata in Gran Turismo 6 oppure no quindi intelligenza artificiale migliorata fisica di guida migliorata anche la grafica dice che è un po' più pulita rispetto a Gran Turismo 5 non dimentichiamoci che comunque rimaniamo sempre su Playstation 3 non abbiamo fatto il salto di generazione quindi la grafica sarà più o meno la stessa non ci si può aspettare chissà che cosa sonoro ancora ai livelli di Gran Turismo 5 ma quello lo si sapeva perché verrà poi migliorato come si è detto con una patch successiva all'uscita di Gran Turismo 6 e anche per quanto riguarda gli impatti lui dice che addirittura sono migliorati anche gli impatti non si è più l'effetto rimbalzo ovvero si andava contro un muro si rimbalzava si andava contro un'auto avversaria e si rimbalzava ma si è un effetto più realistico forse anche dovuto al nuovo sistema di gestione delle sospensioni anche per quanto riguarda l'aerodinamica per chi ha giocato a Gran Turismo 5 sa che in scia si guadagnano moltissimi chilometri orari forse è una cosa esagerata anzi è esagerata il fatto che stanno in scia di un'altra macchina si guadagna moltissimo in velocità di punta e questa cosa è stata migliorata sembrerebbe con Gran Turismo 6 proprio perché non si ha più un vantaggio così notevole quando si sta in scia che è anche giusto perché la scia dà sì vantaggio togliendo resistenza dell'aria ma non un vantaggio così grande come era in Gran Turismo 5 dove si guadagnavano veramente un sacco di chilometri orari rispetto agli avversari e quindi lui scrive tutte queste sue sensazioni e per la maggior parte sono sicuramente sensazioni positive lui parla anche del force feedback che è presente sui volanti che è diciamo forse l'unica nota dolente più dolente che scrive riguardo a questa prova di Gran Turismo 6 il force feedback non restituisce delle vere e proprie sensazioni positive e quindi forse sarà una cosa che dovrà essere migliorata questo per chi usa il volante ovviamente perché è paddista come me purtroppo questa cosa non può percepirla non potrà percepirla perché il force feedback nel pad non esiste e queste sono diciamo le sue sensazioni che comunque sono state positive e quindi mi fanno ben sperare per questo nuovo gioco che ormai manca solo un mese e dovrà uscire e quindi lo ringrazio per essersi fatto avanti lui per primo e aver permesso a me di leggere il suo articolo e di trarne comunque degli spunti per questo video qualche altra novità riguardo a Gran Turismo 6 che è uscita nelle ultime settimane leggendo su GT Planet ho letto ad esempio che sono state sono stati diciamo tra virgolette beccati quelli di Gran Turismo a fare delle scansioni alla Scari Race Resort che è praticamente una sorta di pista privata dove si può andare a correre pagando privatamente e comunque utilizzare vari tipi di vetture e siccome sono state fatte delle scansioni su questo circuito si pensa che probabilmente questo circuito sarà presente in Gran Turismo 6 quindi un ennesimo nuovo circuito che potrebbe aggiungere novità ancora al gioco e che si rivela comunque essere un circuito abbastanza particolare abbastanza bello soprattutto dove possono nascere anche lì delle belle gare delle belle sfide e questo circuito oltre a essere stato appunto oltre a essere stato scoperto che quelli di Gran Turismo 6 hanno scansionato questo circuito si trova vicino a Ronda che è praticamente una delle location per il viaggio fotografico e quindi si suppone che oltre alla location di Ronda per il viaggio fotografico ci sarà in Gran Turismo 6 poi questo circuito un'altra voce forse addirittura più altri rumor addirittura un po' più importanti riguardano Ayrton Senna ovvero sembrerebbe che in Gran Turismo 6 potrebbero esserci degli eventi legati alla vita del pilota di Formula 1 Ayrton Senna famosissimo e quindi soprattutto legato a Ayrton Senna c'è il circuito di Interlagos in Brasile Ayrton Senna brasiliano il circuito di Interlagos in Brasile con la famosa prima S di Senna potrebbe anche questo come circuito essere introdotto in Gran Turismo 6 quindi un ennesimo circuito nuovo quindi i circuiti nuovi in Gran Turismo 6 iniziano ad essere parecchi Interlagos per chi segue la Formula 1 che sarà appunto quest'anno l'ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 Interlagos è un circuito famosissimo molto bello a mio parere anche questo possono sicuramente saltar fuori delle belle gare anche ad Interlagos non è un circuito lunghissimo però vabbè questo non vuol dire e sicuramente fa per quanto riguarda Ayrton Senna è sicuramente un circuito che è centrale nella vita di Ayrton Senna nel senso centrale se si va a parlare di Ayrton Senna comunque come circuito lo si può legare benissimo a Interlagos e questo circuito potrebbe essere presente in Gran Turismo 6 e chissà magari anche qualche evento dedicato a Ayrton Senna con anche le macchine le vetture da Formula 1 le monoposto che sono state rese famose dal pilota brasiliano e di conseguenza quindi un'introduzione di circuito di auto che potrebbe portare ulteriori novità in Gran Turismo potrebbe succedere come è successo per Gran Turismo 5 che vengano creati degli eventi rivolti a Ayrton Senna in Gran Turismo 5 c'erano eventi dedicati a Jeff Gordon pilota di NASCAR Sebastian Loeb di Rally e Sebastian Vettel di Formula 1 stessa cosa potrebbe succedere in Gran Turismo 6 con Ayrton Senna quindi magari niente di così complicato niente di così eccezionale che però potrebbe essere comunque piacevole da avere sul nuovo capitolo di Gran Turismo e questi sono diciamo gli ultimi rumor che riguardano Gran Turismo Gran Turismo 6 e che sono usciti nelle ultime settimane le cose principali poi sì ovviamente si parla sempre di qualche possibile nuova vettura è stata è stata annunciata la nuova Corvette Stain Gray che verrà introdotta in Gran Turismo 6 è stata appena annunciata io sto registrando il video il 4 di novembre è stata appena annunciata questa vettura sto guardando adesso l'immagine di questa vettura magari la farò scorrere anche nel video ennesima stupenda vettura ovviamente che si aggiunge all'immenso parco auto di Gran Turismo 6 ma che sicuramente si ingrandirà ancora di più con l'uscita del gioco e niente queste sono le ultime news in questo video non ho voluto diciamo trattare un argomento specifico ma ho voluto dare queste notizie soprattutto quella riguardante soprattutto parlare del contatto che ho avuto con Alessandro che è il ragazzo che mi ha parlato delle sue sensazioni al Games Week che mi sembravano le cose più importanti proprio perché per una persona che ha provato effettivamente quello che sarà più o meno Gran Turismo 6 non sarà la versione definitiva ovviamente ma sarà quello che ci si avvicina di più è sicuramente importante capire le sue sensazioni perché effettivamente poi ci ritroveremo in mano più o meno quello che lui ha giocato va bene questo dodicesimo video lo chiudo qui no anzi non lo chiudo qui perché è a poche ore della registrazione per il dodicesimo video che ho fatto su GT Planet e comunque sul sito ufficiale di Gran Turismo 6 sono uscite moltissime nuove notizie è stata addirittura aggiunta la lista di tutte le auto di Gran Turismo 6 ovvero saranno 1200 auto di cui ho il 320 nuove e in più sono stati aggiunti molti screenshot del gioco che rivelano comunque un po' di novità e chiariscono alcuni dubbi soprattutto per quanto riguarda l'uso e manutenzione delle auto piuttosto che le parti di elaborazione con nuove sospensioni e anche possibilità di upgrade ai freni ovviamente parlano delle nuove dinamiche di guida confermano la presenza della Scari del circuito di Toscari tra i circuiti di Gran Turismo 6 e comunque dal sito ufficiale vi metterò il link al sito ufficiale si possono notare un sacco si possono leggere un sacco di nuove notizie un sacco di nuove introduzioni che vi ho velocemente riassunto ma che potete vedere per nulla specifico consultando il link che vi lascio in descrizione e niente quindi queste nuove carrellate di notizie non fa altro che aumentare l'impazienza per questo nuovo gioco e niente chiudo qui definitivamente questo dodicesimo video e vi aspetto per il tredicesimo grazie a tutti